Vince, chiamiamo il capitano della Saviglienese, il 23esimo torneo Città di Valucchio categoria allievi 2001 la Saviglienese, un applauso anche ai ragazzi della Saviglienese, al punto della loro vista, grazie, a Saviglienese l'anno prossimo. Grazie. 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 Chiamiamo il capitano di Sant'Arcangelo, dei ragazzi di Sant'Arcangelo. Salva. Salva. Premia Simone Massaccesi. Seconda squadra classificata, un 23esimo torneo Città di Valucchio categoria allievi 2001 di Sant'Arcangelo. Facciamo un bel applauso perché è tantissimo partito a 420. Ringraziamo tutti i miei ricordi da Sant'Arcangelo, tutti i ragazzi della società. Salva. Grazie. il mister Magnani. Grazie. 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 Vincere. Chiamiamo il capitano della Savignanese. Il 23esimo torneo Città di Valucchio categoria allievi 2001 la Savignanese. Buon applauso anche ai ragazzi della Savignanese. All'altro il ministro. Grazie. Buon applauso anche ai ragazzi della Savignanese. Buon applauso. Grazie. Grazie. Buon applauso. 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 Grazie.